I metalmeccanici della FIOM e gli studenti di alcune scuole milanesi, circa 10.000 persone in totale, hanno sfilato questa mattina per le strade del centro di Milano, mentre a Roma Cisle e Will siglavano con Federmeccanica l'accordo sul contratto per il triennio 2013-2015 con un aumento di 130 euro. A Milano e in molte altre piazze italiane i metalmeccanici di CGL hanno protestato scioperando per otto ore e contestando l'accordo. È il secondo contratto consecutivo dopo quello del 2009 che la FIOM rifiuta di firmare. La Federmeccanica insieme a FIOM e Will stanno uccidendo l'esistenza del contratto nazionale di lavoro. Questo è il fatto grave e la risposta che viene dalla giornata di oggi è una risposta che dice che noi non siamo disponibili ad accettare né oggi né domani né mai la cancellazione del contratto nazionale di lavoro nel nostro paese. Landini si è scagliato contro l'accordo separato firmato da Cisle e Will evidenziando la violazione delle regole sulla rappresentanza aziendale dei lavoratori. Il segretario ha spiegato che è un contratto che va sempre di più verso il modello FIAT derogando al contratto collettivo nazionale di lavoro. Entrambi i cortei si sono svolti senza incidenti o particolari problemi di ordine pubblico. Metalmeccanici e studenti partiti rispettivamente da Porta Venezia e Largo Cairoli si sono ritrovati in piazza del Duomo per il comizio conclusivo. Il sindaco di Milano Giuliano Pisapia è salito sul palco al termine della manifestazione e ha abbracciato il segretario generale della FIOM Maurizio Landini. Abbracciamo Pisapia ha detto Landini un sindaco che sa stare dalla parte giusta.